Brusco risveglio questa mattina per i tifosi del Teramo, non solo per l'eliminazione subita ieri sera dal Sud Tirolle in Coppa Italia. Attorno alle 7 circa, infatti, sono stati fermati dalla Guardia di Finanza i fratelli Ciaccia. Davide, che si trovava in una stanza dello Sporting Hotel di Teramo, è stato raggiunto dagli uomini delle Fiamme Gialle sotto il comando del colonnello Lucignano ed è stato poi trasferito presso la caserma Costantini. Capi d'accusa pesantissimi per gli imprenditori romani, azionisti di maggioranza della Teramo Calcio da pochi giorni. Associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, indebite compensazioni, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia. Il pacchetto azionario del Teramo Calcio pari al 60% è stato affidato al custode giudiziario, insomma una vera e propria mazzata per una piazza che aveva vissuto, con enorme entusiasmo, l'arrivo dei nuovi imprenditori. Troverà pace prima o poi la Teramo Calcio? Basterà forse attendere qualche giorno, fino a quando i due fermati dovrebbero, e il condizionale è d'obbligo, essere ascoltati dai magistrati inquirenti.